Piazza Grande proseguono i lavori per l'allestimento della Tribuna A, poi seguirà anche la Tribuna di Piazza Grande da lunedì alle 17.00, domenica mattina alle 11.00 in Piazza della Libertà Palazzo Comunale, la strazione dell'ordine del carriere per la 126esima giostra del Saracino che si corre domenica 1 settembre. I lavori vanno spediti, il tempo aiuta, vediamo anche che si sta allestendo la lizza, il tutto è pronto per la prossima settimana, siamo arrivati veramente a 4-5 giorni dalla settimana di prove e poi dalla giostra che si correrà come ho detto prima il 1 settembre e quest'anno la potete anche seguire su Rezueb. Poi con Marco Rosati e Paolo Noceltini, il cameraman, il totum regia di Stefano Pezzola, un arrivederci a sabato perché sabato inizieremo con le riprese con la presentazione della lancia d'oro che si terrà sabato mattina per l'appunto in Palazzo Comune.